Ciao tesoro io sono Ecate, splendente e oggi, questa sera, ti farò un make up Make up Estivo Fresco Per tutti 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 Черne Adatto 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 i tipi di viso perciò indosso i gufie e partiamo perciò indosso i gufie e partiamo questa sera inizieremo con uno spray e termineremo con un altro spray come primo spray useremo questa acqua priming base al profumo di rose che è sempre quella che uso io finchè non la finirò questa questa la uso per i make up quelli sciolli mentre per i make up un po' più corposi oggi utilizzo un primer in crema di Kiko che è un pacezzante molto interessante ma dato che questo sarà un make up leggero fresco questo per tutti 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 giorni e per tutti 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 i tipi di fisi allora va benissimo va benissimo va benissimo questo questo primer il spray ha il profumo ha il profumo un po' di rosa spostiamo un po' qui i capelli anche se non ne hai tanti davanti ma non voglio bagnarteli hai qualcosa per tirarli indietro ok va bene anche così ok ti aiuto aspetta ecco qua allora chiudi gli occhi sono occhi a cieco chiudi gli occhi tesoro chiudi gli occhi tesoro chiudi gli occhi tesoro chiudi gli occhi ok uccicci tzz 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 stella non lo spruzzo davvero perchè l'ultima volta ho fatto il disastro sulla videocamera ma questo è l'applicazione quindi va bene così allora aspettiamo un po' che faccia il suo lavoro, che si asciughi più che altro aspettiamo che si asciughi, ok? e poi andiamo con questo questo fondotinta che ho quasi terminato, poi infatti volevo acquistarne un altro, provarne un altro, diverso guarda la celda è rimasta tutta sui bordi, praticamente è finito lo sto usando fino all'ultimo granello di pulveri come ti senti? si è un po' asciugato il primer? ok perfetto, allora mi fido di te e ci mancherebbe creatura ok allora adesso ti picchietterò in modo delicato ovviamente il fondotinta e polvere allora anche per questa volta chiudi gli occhi che così vado meglio si te lo metterò anche sulle palpebre andate we見 e poi adesso io prendo un altro po' anche sulla fronte Tuf 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 tuf, tuf 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 e adesso te ne metto anche sulle guance, sulle guance guancia di sinistra tuf 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 mi scrocchiamo tutte le braccia sulla guancia di destra e adesso sul mento sul naso ultimo ogni volta che faccio così sto l'occhio a questo braccio non è neanche il gomito pazzo e adesso infine sul naso tuf 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 ok di solito io adesso vado con il blush si perchè ho tutta una mia tecnica il solito blush che uso questo qui di Kiko che mi piace tantissimo 102 soft questo colore qua che è molto bello mi piace è un po' tendente al viola ma in realtà sulla pelle da un bel colore bello sano perchè adesso ti ho messo il fondotinta che ti ha uniformato tutto il viso senza avere macchie sai di scrumie della pelle però sei un cadavere e quindi adesso ti vado a dare questo bel colorito sano di salute e anche un po' di come se avessi preso un po' di sole cosa che è successa ma l'effetto ti è andato via perchè ti ho coperto tutto il viso col fondotinta e quindi adesso andiamo a ricreare quella situazione bellissima e naturale che avevi però con una base senza macchie di scrumie nel viso che erano anti estetiche quindi andiamo a creare una cosa naturale ma finta ma dopo vedrai andiamo a picchiettare un po' per fare andare via un po' di prodotto perchè non vogliamo che la polvere si vada in giro per tutta la faccia io uso questo pennello che sono sicura non sia quello adatto ma non mi interessa perchè mi trovo bene che sparge bene il prodotto dove voglio e lo sfuma bene credo che questo potrebbe essere un pennello per... qui non lo dice per il fondotinta forse non lo so comunque non importa l'importante è che faccia il lavoro per cui noi abbiamo deciso il ruolo tutto a posto fidati creatura ok allora chiudiamo anche gli occhi perchè andrò a mettertelo in questa zona qui che fa un effetto il lifting ti alza lo sguardo crea quella specie di ombra però sana perchè non è come il il contouring che ci metti quei grigietti i marroncini di un po' però ti crea questa ombra sana perchè rossicciano mi piace troppo come l'effetto e poi te lo andrò a mettere qua per creare anche lì sia questo effetto di sano che io lo percepisco così poi non so in realtà come si dica in termini di make up artist e va anche però a fare una sorta di lifting anche qui no? ti tiro su lo zigomo che poi andremo a diciamo fissare questo effetto con un illuminante quanta strada ho fatto dai primi video make up adesso riesco a fare tutto con una una logica prima copiavo quello che facevano gli altri senza avere un criterio adesso ogni volta che creo un make up lo creo perchè so che facendo così si fa questo so che facendo una cosa determinata cosa creo un determinato tipo di effetto so che se hai gli occhi di un colore per farli risaltare si usa tot colore eccetera eccetera quindi non non sono esperta però mi piace adesso aver acquisito tutte queste informazioni e poterle sfruttare bene in modo logico quello si perchè di solito quando mi vedi con qualche make up che dici wow che bene che stai a volte sono un po' improvvisati però sono sempre un po' pensati dietro non è che metto la mano dentro al cassetto e quel che esce esce vado ad abbinare comunque ecco in base anche al mio viso il colore del mio viso e e poi mi fa ridere quando qualcuno mi tra virgolette coppia e tipo qualcosa del look e lo fa in modo cioè copiato male perchè non sa che io magari quella persona non ha la forma dell'occhio come la mia non ha il mio colore di occhi quindi va bene va a copiare male come metto il lombretto per esempio perchè magari con la sua forma potrebbe fare delle cose fantastiche invece va a copiare quella mia che io ho sta forma strana e quindi mi fa ridere ecco perchè appunto ogni mio ogni mio make up è studiato anche così insomma c'è dentro alla mia testa ho fatto un ragionamento ecco e quindi niente andiamo a liftare un po' la la forma del tuo viso facendo questo effetto sano di di blush poi dopo andiamo a mettere anche un lieve un lieve rossore sotto al nasino se vuoi se vuoi possiamo ricreare qui l'effetto di quando si va al mare e ci si arrossisce si si arrossisce un po' come si dice il solito scotto tra virgolette un po' qui questa zona che io me la scotto sempre però è molto kawaii molto cute invece quando io mi metto gli occhiali non lo faccio invece adesso in estate quando mi trucco e non metto gli occhiali quindi solo quando faccio i video praticamente faccio questo effetto perchè mi piace molto kawaii e poi anche mettiamo un pochino un pochino un pochino di rossore qui che dà un effetto un po' sagomante diciamo così anche se sarà divissimo se noteranno la pena ma è quello il bello che come il make up non make up ecco che se non ci fosse sarebbe diverso se c'è sembra che non ci sia ma in realtà fa qualcosa ecco non so se mi sono spiegata comunque adesso hai capito dove andrò a posizionarli facciamo prima la l'occhio e la fronte diciamo ecco non metto mai niente qua metto solo qui per riftare non mi piace l'effetto qui e e e poi andiamo a perchè comunque deve essere una cosa leggera ecco quindi andiamo a mettere anche qui solo a zigomo va bene va bene ok proprio lieve non deve essere deve essere proprio una toccata e via lo spalmiamo come lo sfumiamo lo sfumiamo lo sfumiamo lo sfumiamo bene allora l'effetto qui sul nasino lo vuoi? ok allora intanto te lo vado a mettere qua un po' ci pensi? ok basta proprio lieve lieve da bene allora te lo faccio così 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 poi facciamo anche quello qua quindi fai così un attimo alza un attimo il mento ok proprio un pochissimo proprio quel feto non ho visto che però cambia la situazione andiamo con questo che se hai visto i miei video è il pink flamingo 07 di ulac 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 e sarebbe un ombretto in crema ma io lo sto usando come illuminante perchè non so se sarei notato ce l'ho in ogni video è un colore caldo e ci sta perfetto per l'estate secondo me poi dopo questo inverno tornerò a usare un illuminante freddo ma per quest'estate mi va così allora eh perchè ha i toni caldi dell'oro e anche dell'arancione questi colori così questi riflessi così caldi bellissimo vado a picchiattarlo con il dadito eh io l'illuminante che lo metto sempre 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 esclusivamente col dito vado meglio a stenderlo forse anche perchè è cremoso in crema visto che non è comunque un illuminante ma un ombretto però secondo me è sprecato come ombretto e come illuminante dovrebbero proporlo come illuminante perché secondo me è il suo potenziale quello allora mettiamo una puntina sul nasino lo mettiamo qui solo in questa zona qui non andiamo giù quindi puntina del nasino questo qui che da proprio un effetto senza contouring anche se poi ti farò una sorpresina dopo la vede e poi andiamo a metterlo qui sotto l'argata sopraccigliare che fa sempre effetto whip lifting poi andiamo a farne una puntina qui si una puntina qui sull'arima interna dell'occhio e e poi quella classica soprall'ottigomo che appunto fa effetto riempitante ogni volta che mi faccio questa tipologia di make up vedo non vedo make up non make up che vedi sembra non truccato in teoria tutti mi dicono ma si dimagrita? no stella ho solo usato la logica e gli effetti del contouring quindi sembri non truccato ma sei fashion sei ficcante tesoro sei fantastico sei splendente ok allora andiamo col nasino puff puff poi te lo metto qua ok e via che scrocchia sempre sto braccio poi te lo metto negli altri punti che ti ho detto che ti ho detto occhio arcata sopraccigliare arcata sopraccigliare poi abbiamo appunto luce qui chiudi gli occhi grazie vorrei infilarci un dito nell'occhio non credo sia il massimo poi dopo andiamo sugli zigomi ok ok ne basta veramente pochissimo perchè è molto cremoso molto molto coprente molto coprente adesso la sorpresa tu la vuoi il rossettino la mettiamo per ultimo in questo periodo sto usando questo pennarello l'avevo inizialmente provato con una matita ma con questo mi trovo molto meglio è un pennarello per le sopracciglia no transfer e della Kiko è numero 01 ed è fatto come un pennarello tipo eyeliner solo che è tipo un po' accuso non so come spiegarlo è colore molto tenue ed è un colore diverso dalle mie sopracciglia quindi non va bene per le sopracciglia ma come sai a me le sopracciglia non piacciono bene mi piacciono chiare come quelle che ho io e un po' anche svolte insomma si svolte un po' con i buchetti perchè sono più naturali e siccome questo make up è fresco è finito naturale non andiamo a riempirle dal mio punto di vista come mia idea poi ovviamente ognuno fa come vuole e con questa in realtà non andiamo appunto a fare come al solito è stata creata per le sopracciglia non ci interessa perchè noi andremo utilizzarla per fare le lenticini perchè fa un effetto super naturale bellissimo io me ne sto facendo in questi in questo mese ed ha cioè bellissimo mi piace un sacco in più con la scusa diciamo con la scusa del delle vinte lenticini vado a creare una sorta di contouring al naso che lo fa sembrare più più carino visto che io ho già un meganaso storto anche e anche questo fa sembrare più magro eccetera quindi quello che vado a fare è picchiettare ehm a caso random però seguendo comunque una logica cioè creando una sorta di contouring al naso e ehm facendo anche questa specie di mascherina intorno agli occhi e arrivando fino a qua poi se vuoi ne possiamo mettere anche un po' qui così perchè fa figo e se vuoi se no solo qui se vuoi esagerare ehm random però sempre con una logica ecco e poi man mano che faccio uno so 5 6 lenti genosi poi vado a picchiettare con il dito così si sparcono anche si appiccicano al dito e si sparcono un po' e viene ancora più effetto casuale e naturale perchè ovviamente se facessi una riga dritta così sarebbe brutto allora vado eh puoi tenere gli occhi aperti tanto la metto sul nodo un po' appiccino anche sul questo è dove adesso if poi ci ok mostro così è già bellissimo giù e qua allora adesso ti mettiamo questo rossettino che è quello che ho io allora io lancerò le labbra così grosse sopra, sotto sì sotto sono le mie, sopra no allora ho preso 99 centesimi questa matita labbra da action e è proprio del colore giusto che si avvicina tantissimo alle mie labbra ti farò un contorno un contorno uscendo un po' dalla linea delle tue labbra per farle un po' più carnose anche se le tue sono già belle però noi vogliamo esagerare perché sarà un make up tranquillo però ci dobbiamo mettere un tocco così un tocco feco ok è comunque una matita color nude quindi sembrerà che siano le tue labbra alla fine quindi andiamo solo un po' a modificare ecco la lo spessore delle tue labbra fingendo che siano così però naturali ecco quello in senso benissimo un altro progetto ok hai sentito? è cremosissima questa matita infatti devo che la finirò presto speravo fosse una di quelle matite che si possono temperare invece sono quelle che hanno una piccola mina però 99 centesimi non si può neanche pretendere allora questo è un penarello vecchissimo è un rossetto penarello ho visto che a strani ho fatti quali identici che sono anche tipo molto permanenti non come questo che insomma se bevi qualcosa se ne va e e vabbè insomma infatti volevo cercarne un uguale dell'astro simile a questo colore nude questo è il colore numero 2 e volendo qui c'è una specie di bullo cacao che ti dà un effetto gloss ma a me non piace mi piace di più anche perché con l'effetto gloss mi sembra che vada via più facilmente invece così lo possiamo anche settare con un po' di cipria ma poi ho uno spray che setta tutta la situazione quindi non c'è più bisogno è fatto proprio penarello io non mi trovo con i rossetti con la forma normale con il penarello mi trovo meglio sia per quanto riguarda le indigini invece per quanto riguarda labbra perché riesco a darlo meglio senti che mi profumo di pesca buono vero ok allora riesco perché proprio come se te lo stessi disegnando e con con la punta del penarello mi riesco a muovere molto meglio sì forse dovrei provare anche con un pennello ma volevo appunto provare quelli lì di Astra li cercherò da qualche parte e adesso da Action come mi ha consigliato una mia creatura ho trovato un euro e 69 mi pare questo spray che fissa e funziona bisogna darlo a 20 cm dalla distanza e si spuza poi si aspetta che si asciughi e effettivamente fissa bene perché con questo caldo prima mi colava tutto il make up invece adesso mi regge tutta la sera anche e oltre tutto il giorno praticamente prima dell'uso davvero c'è scritto dietro bisogna sciagherarlo ok trottata distante chiudi gli occhi stella stesso discorso di prima non vogliamo spruzzare tutta la videocamera e intagonare come si senti attualmente l'obiettivo quindi beccati il ok benissimo adesso lo facciamo asciugare un po' il ventaglio qui accidenti ok sento già fresco rinfrescante anche vero adesso puoi pure andarti a specchiare e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti di questo make up praticamente ti ho riproposto quello che ho io adesso sotto la mente e quello che ho più o meno in tutti i video in stili qualcuno un po' modificato perché magari mi metto un po' di matito sugli occhi un po' di impianto spero che questo make up ti sia piaciuto io come sempre ti auguro buonanotte buon relax ciao tesoro